Per Verratti al Paris Saint-Germain manca davvero poco, al massimo entro la fine della prossima settimana la trattativa dovrebbe concludersi mentre le due società stanno preparando i documenti necessari ma secondo fonti autorevoli della Gazzetta dello Sport questi giorni interlocutorie di stallo stanno favorendo la Juventus pronta ad inserirsi nell'ennesimo colpo di teatro nella trattativa con offerte in grado di rompere gli equilibri, bocche cucite ovviamente da parte degli interpreti ma ormai siamo agli sgoccioli della telenovela e molto presto conosceremo l'epilogo Il DS Delicarri intanto continua a sondare il mercato in entrata per la corsia mancina di difesa pare cosa fatta il passaggio in bianco-azzurro di Francesco Modesto il giocatore in arrivo dal Parma in prestito con diritto di riscatto potrebbe essere già ufficializzato nella giornata di domani Ormai ufficiale lo scambio con il Cesena Colucci-Gessa quest'ultimo dopo tre anni in bianco-azzurro e la cavalcata dalla prima divisione alla Serie A affidato ad una lettera i propri ringraziamenti commoventi alla piazza pescarese In entrata è circolata la voce di un possibile approdo a Pescara di Pasquale Foggia il fantasista napoletano la scorsa stagione protagonista della Sampdoria non rientra nei piani della Lazio proprietaria del suo cartellino dunque l'affare potrebbe concludersi e continua anche la ricerca di un portiere in grado di reggere assieme ad Anania la pressione della massima serie oltre a Perin che rimane in cima ai desideri del tecnico Strop nelle ultime ore sono circolati anche i nomi di Carrizzo di rientro alla Lazio dopo il prestito a Catania e di Benussi del Lecce contatti importanti anche per il portiere brasiliano Felipe classe 1984 che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Flamengo